Anticipazioni, il segreto, 3 a 7 aprile, la piccola Anna muore nell'incendio, Camila è incinta breve pausa nel periodo pasquale per il segreto. La SOP, tornerà in tv martedì 3 aprile. Le anticipazioni svelano che la piccola Anna, figlia di Julieta, morirà nell'incendio fatto a piccare da Francisca per sbarazzarsi dei coloni. La SOP, il segreto, non andrà in onda nel giorno di Pasquetta. I nuovi episodi torneranno su Canale 5 a partire da martedì 3 aprile. Diversi colpi di scena attendono gli spettatori. La piccola Anna, figlia di Julieta, morirà nell'incendio a piccato per ordine di Francisca nell'area in cui si trovano le case dei coloni. Si aprirà un nuovo capitolo per Camila, la donna confiderà a Nicolà di essere incinta. Anticipazioni, il segreto, martedì 3 aprile ore 16 e 30 l'incendio dietro il quale c'è lo zampino di Prudencio e Francisca, si rivela per la piccola Anna. La bambina perde la vita. Il cuore di Julieta è dilaniato dal dolore. Prudencio, dopo aver saputo che con il suo gesto ha strappato a Julieta la persona a cui teneva di più, e inizia a provare dei laceranti sensi di colpa. Gli abitanti di Puente Viejo sono sconvolti per l'accaduto. Anticipazioni, il segreto, mercoledì 4 aprile ore 16 e 30 Franziska è spaventata. La fragilità di Prudencio non la fa sentire al sicuro. Teme che l'uomo possa confessare di essere coinvolto nell'incendio delle case dei coloni che avevano occupato le terre della perfida donna. La morte della piccola Anna porta la situazione dei responsabili della tragedia ad aggravarsi. Camila svela un segreto a Nicolà, anticipazioni, il segreto, giovedì 5 aprile ore 16 e 30 Prudencio lotta contro i sensi di colpa. Vorrebbe rivelare tutta la verità sull'incendio a Saul, ma si trattiene. Maurizio, al contrario, è sempre più scosso, Franziska gli fa una strigliata e gli impone di tacere e seguire i suoi ordini. Nicolà prende finalmente coraggio. È pronto a svelare a Camila di essere innamorato di lei. La donna, però, lo sorprende comunicandogli di essere incinta. Così, il giovane decide di desistere. Anticipazioni, il segreto, venerdì 6 aprile ore 16 e 30 Julieta, madre di Anna, scompare nel nulla, Saul va a cercarla. La giovane, distrutta dal dolore, non se la sente di presenziare ai funerali della sua bambina. Neanche Candela ci andrà? Julieta si rifugia nei boschi per provare ad accettare la tragedia che si è appena compiuta. Poi torna tra le macerie della sua casa distrutta dall'incendio, sperando di trovare ricordi di sua figlia. Anticipazioni, il segreto, sabato 7 aprile ore 15 Saul, Prudencio e Nicolà sono molto preoccupati per Julieta e vanno a cercarla. Aela, invece, si rivolge alla guardia civile chiedendo che alcuni loro uomini si attivino per riportare la donna a casa. Il rapporto sempre più affettuoso tra Beatriz e Aquilino fa mormorare gli abitanti di Puente Viejo, Camila chiede subito conto all'uomo che però nega che tra lui e Beatriz ci sia un legame sentimentale. Il rapporto sempre più affrontare la donna a casa. Grazie. Grazie.